Io stavo cercando di fare un buon elato di azzeite d'oliva e ho fatto abbastanza preva con varie azzeite differenti d'oliva e non ho incontrato l'azzeite che mi soddisfacere con l'elato. Un giorno, vedendo una feria che è andata a Savor hace 3 anni conosci Diego, della impresa Basilippo e le pedi un po' di azzeite bello, che è un azzeite di acetone arbecchina e ho fatto la prova e salio un elato esquisito perché è un azzeite con molto poco acidente, un azzeite molto dolce, un savor affrutato che dentro dell'elato ricorda il savor al yerba desencortata. Quindi è chiaro, mi sono sorprendente e ho deciso che questo sia l'elato di azzeite d'oliva per la mia marca, che è Mascarpone.